Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Per chi non mi conoscesse io sono Luca e sono un coach di Calisthenics Online. Mi occupo appunto di aiutare ragazzi e ragazze a migliorare le loro prestazioni in questa disciplina. Se sei interessato o interessata ad iniziare un percorso serio e producente di miglioramento, visita il primo link in descrizione ed eventualmente pronota la chiamata gratuita con me dove ti spiegherò appunto come funziona il tutto e capiremo se ci potranno essere i presupposti per iniziare questo percorso. Detto questo, oggi parliamo di Loopband. Vedo molti ragazzi magari su Instagram o YouTube che le utilizzano in una maniera non molto corretta. Quindi oggi vediamo un attimo come vi consiglio io di utilizzarle e vediamo un attimo come e quando possono essere utili. Ma prima, intro. Ragazzi, che cosa sono i Loopband? Sono gli elastici che spesso e volentieri vengono utilizzati per aiutarci in un determinato movimento, soprattutto nelle skill. Oppure sono quegli elastici che magari ci servono per andare a prendere la nostra prima trazione, che quindi utilizziamo nelle basi, nei dip, che ci possono aiutare appunto a scaricare il peso. In realtà possono essere utilizzati in moltissimi modi, c'è chi li usa magari come dei cavi per fare le croci o li utilizza per fare i bicipiti. Insomma, sono veramente sdoganati nel periodo di quarantena perché effettivamente permettono di fare veramente tantissime cose. Inizialmente, quando ho iniziato io ad allenarmi, non ero molto favorevole a queste Loop. Ma poi con il passare degli anni mi sono reso conto che effettivamente se vanno usate correttamente sono molto molto utili. All'inizio ero convinto che appunto utilizzando le varie proprie deutiche e la scalabilità di queste proprie deutiche si potessero comunque raggiungere tutti gli obiettivi. In parte è vero, lo penso ancora adesso, ma perché limitarsi e non utilizzarle? Semplicemente non ha senso racchiudersi e limitarsi in questi concetti che assolutamente non fanno bene. Quindi tutto è utile se lo si sa usare. Passiamo al primo punto. Gli elastici non devono essere utilizzati per fare esercizi fuori dalla nostra portata. Mi spiego meglio. Nella mia serie Road to Plunge mi avete visto eseguire alzate in planche, apertura in planche, con Loop, magari anche con 3 Loop addirittura. E quindi il peso scalato è veramente importante. Però io ero pronto per fare quegli esercizi. Quegli esercizi con intensità così ridotta. Mi servivano per lavorare bene sulla forma, bene sulla postura, per fare un lavoro molto più pulito. Però comunque la forza per fare una straddle già l'avevo. Avevo dei buoni secondi in Advanced Tack. Padroneggiavo delle belle alzate in Advanced Tack. L'Advanced Tack aperta la gestivo bene. E quindi l'utilizzo di quelle Loop mi ha aiutato poi a sviluppare la mia Straddle Plunge. Però si vede molto spesso dei ragazzi che con la scusa appunto di utilizzare le Loop fanno esercizi che completamente non sono al loro livello. Provano tutte le proprie debiti che in full. Fanno Front Lever Pull Up, Front Lever Touch. Col 85 Loop tira tantissimo. E allora ragazzi quello lì è molto un divertimento. E sarebbe come utilizzare la Dream Machine per esempio. Stesso concetto per la Dream Machine. Se utilizzata correttamente è molto utile. Se no rimane molto un gioco diciamo. Qualcosa di divertente. Quindi valutate bene prima di utilizzare un esercizio con Loop. Se per fare quell'esercizio avete bisogno di tante tante Loop. Forse dovete lavorare ancora un pochettino sulle proprie debiti che inferiori. Se padroneggio magari delle alzate in Straddle Plunge con una Loop leggera. Più una Loop ultra leggera. Posso andare a inserire in scheda magari delle alzate in Straddle Plunge con tre Loop. Perché comunque so che sto utilizzando le Loop per andare a lavorare magari tecnicamente su una postura. Su un'attivazione. Piuttosto che utilizzarle semplicemente per poter fare quell'esercizio. Non so se mi sono spiegato bene. Passiamo al secondo punto. Oltre a sapere quando utilizzarle. Vediamo come utilizzarle bene. Le Loop vanno tirate bene. Per favore. Basta utilizzare le Loop Band sui piedi. Magari in Front Lever e Plunge. No ragazzi. Ritorniamo sempre al punto di prima. Se per fare quello determinato esercizio dovete mettervi la Loop nei piedi. Vuol dire che probabilmente la forza ancora non l'avete. Quindi wow che figo mi sto mettendo in Full Plunge. Sì ma ho come se avessi un compagno che mi tiene i piedi. Che senso ha? Le Loop Band per aiutarci nel migliore dei modi vanno tirate ben perpendicolari. Magari si vedono fare anche tanto delle alzate in straddle planche. Comunque della planche. Ma con le Loop tirate magari verso avanti o verso indietro. Questo non è un effettivo aiuto. Perché l'elastico non ci consente di sbilanciarci come dovremmo. Quindi magari stiamo andando a lavorare su altri angoli che poi non riscontreremo in una planche libera per esempio. Andando a fare una planche non perfettamente sotto la sbarra quindi con Loop non tirata bene verticale. Appunto la Loop ci tirerà verso dietro e non riusciremo ad eseguire correttamente l'esercizio. Terzo punto. Le Loop vanno utilizzate per dare specificità a un movimento. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che vanno utilizzate laddove le propedeutiche inferiori non arrivano. Per esempio ho lavorato tanto sull'advanced stack planche. Ho lavorato tanto sulla one leg front. Bene non sono arrivato ancora però allo step successivo. Quindi magari non riesco a fare uno straddle front. Non riesco a fare una straddle planche. Che cosa faccio? Vado ad allenare quella skill con una Loop. Questo per dare specificità. Andare a lavorare angolo specifico appunto su questo tipo di skill. Sulla propedeutica che mi interessa. Però sempre tenendo in mente che la Loop non deve essere un mezzo per poter fare esercizi che non posso fare. Quindi tutti questi punti che vi dirò sono estremamente collegati. Vi faccio anche il mio esempio. Una volta avuta una buona advanced stack. Un ottimo controllo in advanced stack. E quindi dopo aver compreso che la padroneggio al massimo. O meglio al massimo. Si può sempre comunque migliorare. Sono andato a lavorare appunto in straddle planche. Facendo degli approcci con un'intensità molto ridotta. Questo per lavorare proprio angolo specifico. Soprattutto ragazzi nelle propedeutiche più avanzate. Dove lo sbilanciamento è veramente importante. Vi faccio sempre l'esempio di planche front. Però questi concetti vengono applicati ovunque. Anche nella croce. E soprattutto parliamo di skill. Perché poi le Loop magari nelle alzate dello street lifting hanno altre funzionalità. Quindi magari faremo un video a parte. Comunque il mio sbilanciamento in planche tra una propedeutica e l'altra è molto differente. Quindi con il suo lavoro in advanced stack non avrei lavorato bene la straddle. Cioè non sarei migliorato tanto. Cosa magari che è successa per esempio al mio allievo Angelonica. Che lavorando solo in advanced stack ha praticamente preso full planche. Perché nel suo caso lo sbilanciamento c'è ma non è eccessivo come magari può essere nel mio caso. Quindi valutare sempre sempre bene il soggetto. Niente raga io vi ringrazio per la visione. Questo è tutto ciò che avevo da dirvi appunto inerente alle loop band. Sicuramente ci saranno altre cose che mi sono dimenticato perché a questo video non me lo sono scritto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ovviamente mi piace, iscrizione al canale, attivate la campanella. Noi ci vediamo con un prossimo video ragazzi. Fatemi sapere altri argomenti da portare qui su YouTube. Alla prossima, allenatevi e bella.